diciamo che sta riprendendo sempre 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 ti saluto non lo sai che ce l'ho pure io a me è un periodo proprio che cazzo fare l'impresa quindi ci vede angelo ora ma mi sente pure angelo non sei venuto diglielo un po sei connoto hai la lista 2 o la lista 3 la x2 perché è riuscita la 3 che c'ha veramente un periodo proprio mi si credo ho fatto il giro per il marocco il video pochissimo mi rompe il cazzo ultimamente farmi video è una cosa allucinante gruppo parrocchia salone